Ritorniamo in studio con PCS Futsal, è il momento di andare avanti con i risultati e le classifiche, siamo in Serie D, vai Matteo Lupini. E andiamo a vedere cosa è successo nel girore D della Serie D di Roma e per quello andiamo su calcio5live.com dove nel big match l'Atletico Village, capolista, viene battuto per 3 a 2 dal Cortina Sporting Club. Terzo, non ne approfitta l'Eur Futsal 704, sconfitto dal Città Eterna. Quinta piazza per il Cosmos che per 7 a 1 si impone sul Colle del Sole. E come possiamo vedere in questo momento tra il Cosmos Hard e il Cortina Sporting Club, al terzo posto al momento, utile per quanto riguarda la Coppa Provincia di Roma, sono distanti solo 7 lunghezze. 7 lunghezze che possono essere colmabili. Daniele, secondo te, visto le ultime prestazioni del Cosmos? 7 lunghezze come le 7 le reti del Cosmos. Credo di sì, credo, come poi vedremo anche attraverso le immagini, come abbiamo anche documentato nel corso di tutta questa stagione, i Cosmos Hard hanno nelle corde la capacità di esprimere un bel Futsal, magari non sono stati sempre continui nell'arco della stagione, però magari, come per il Penta, anche in questo caso una volata finale, certamente per loro la posizione è molto più allettante e quindi magari gli stimoli possono essere ulteriori. Sono tranquilli e possono provare a divertirsi come si sono divertiti. Venerdì sera in casa contro il Colle del Sole, la vittoria del Cosmos per 7 a 1. Vediamo il servizio. Sere di girone D al Nova Florida Sporting Club Cosmos Hardia contro Colle del Sole. La squadra di Tarantino vuole dare seguito a buone prestazioni per risalire la classifica. Ed i biancorossi iniziano subito bene. Bella la palla scodellata di De Rossi per Braziosi, autore della prima occasione. Poi da corner ci prova Alami con la bella staffilata. In seguito è ancora Braziosi sotto misura, non trovare lo specchio della porta per pochissimo. La rete del vantaggio arriva approfittando di un disimpegno errato. Alami prende il pallone, poi piazza dove il portiere non può arrivare. 1 a 0 per il Cosmos. Prova a mettere la testa fuori il Colle del Sole. Il primo tentativo degno di nota è quello di Sordini. In seguito invece Raffone a spaventare De Santis colpendo uno palo. La calcio piazzato invece è il tentativo di Venuti. Questa volta De Santis con il piede salva tutto. Si raffaccia in avanti poi il Cosmos ancora con Braziosi che salta il portiere. Il tocco di fine colpisce il palo, si dispera il 10 Ardiatino. Prima dell'intervallo la gran bocca di Avagliano che finisce di poco fuori. Risposta simile per il Cosmos, Tritrini, grande destro. E si giunge così alla ripresa che sorride alla squadra di Tarantino perché dopo il primo tentativo dalla distanza di De Rossi arriva il 2 a 0 firmato Tritrini a fil di palo. Poi da qui il col del sole molla un po' ed arrivano gol a Raffica. Braziosi firma il 3 a 0 sotto misura. In seguito arrivano due minuti formidabili di Teti che prima segna il 4 a 0. E subito dopo va a firmare la doppietta personale che vale il 5 a 0 per il Cosmos. Ci sarà in seguito anche il gol di Vitulano approfittando del portiere di movimento. Nei minuti finali il col del sole riesce a trovare il gol della bandiera ad opera di Secone. E proprio alle battute finali la gioia personale incredibile per De Santis che dalla porta rinvia e trova il gol. Grande abbraccio di tutta la squadra attorno al suo portierone. E finisce così 7 a 1 per il Cosmos, una partita mai in discussione. Sorride Tarantino per questa vittoria, una partita mai in discussione, ben condotta dai biancorossi. Mai seriamente in pericolo questo risultato, Daniele? Sì, a parte sorrido anch'io per questa grandissima rete del portiere. Davvero emozionante per un portiere. Tra l'altro vorrei dire una cosa a margine non solo di questa partita ma dell'intera stagione dei Cosmos. Sembra quasi che questa categoria non appartenga per niente a questi ragazzi perché al di là dei veterani che hanno un'esperienza tale alle spalle da poter dire evidentemente che questa categoria non ha nulla a che fare con il loro background. Ma anche per i più giovani sembra davvero che siano pronti per altri palcoscenici. Detto questo, una delle note positive al di là della goleata di questa giornata e anche dei gol di pregevole fatture abbiamo visto anche in questo caso dei fraseggi e dei tentativi prolungati a far capire cosa che comunque questa è una squadra che le cose le prova e poi le mette in campo e questo naturalmente è un merito dell'allenatore, già citato più volte Tarantino che sta dando un'impronta alla squadra, i biancorossi che si esprimono come detto sempre ad alti livelli e per una buona fetta di stagione magari hanno giocato anche a ritmi bivalenti. Quando hanno iniziato a correre dopo anche le festività natalizie hanno davvero mostrato di che passa sono fatti e queste goleade sono la dimostrazione. Sì, non soltanto goleada, non soltanto gioco offensivo ma anche concentrazione, abnegazione in fase difensiva come poi ascolteremo ancora dalla puntata dalle parole di mister Tarantino nel corso delle interviste che trasmetteremo più tardi. Importante è stato non avere amnesia nel finale, in particolare quando si è preso gol, tante volte il Cosmos prendendo gol è andato un po' in apprezzione, un po' in nervosismo e ha buttato all'aria delle vittorie già fatte. Sì, i famosi sette punti di stacco potrebbero anche essere eletti in questo modo. Nella prima parte di stagione in effetti era proprio così, Tarantino ha ragione al 100% perché erano tante, sono state tante le partite nelle quali i Cosmos hanno comunque dominato e che potevano andare in un verso simile a quest'ultima partita di cui stiamo vedendo le immagini. Proprio invece quelle amnesie hanno avuto un peso specifico significativo nella viva parte della stagione. Spesso appunto un po' di dormite, magari gol presi all'ultimo istante, ripiegamenti non concretizzati, anche un po' di energie che mancavano nella parte finale della partita. Mi rifaccio ancora una volta le parole di Tarantino di una intervista di qualche settimana fa quando disse anche io faccio gli istituti di allenamento con i ragazzi per mostrare che se posso farle io lo devono fare anche loro e questa sensibilità di tutto il gruppo ha coeso appunto il gruppo e anche queste amnesie sono diminuite. Sono piccoli grandi gesti che aiutano proprio a cementare il gruppo come anche un'altra nota di colori che volevamo sottolineare questa sera il fatto che il Cosmos in occasione dei calci d'angolo quando deve chiamare gli schemi insomma anziché chiamare i numeri come fanno un po' tutti chiama i colori, una cosa molto particolare quindi rosso, giallo e così via quasi come se fosse un sottolineare quello che noi avevamo raccontato qualche settimana fa la famosa divisa variopinta del Cosmos. La bellissima divisa variopinta del Cosmos non che questa non sia bella anzi rappresenta un po' qualcosa di radicato nel territorio ardeatino ricorda anche altre realtà ma quella divisa è quasi un po' un emblema di quello che tu dicevi insomma chiamare gli schemi colorati nota di colore appunto e nota di colore anche la partecipazione del pubblico alle partite dei Cosmos. È vero che l'oraio non è molto agevole specialmente d'inverno fa molto freddo anche ovviamente in zona però comunque gli spalti del centro sportivo che poi è quello della Mirafin sono comunque molto molto ben riempiti quindi diciamo fa freddo ma al calore lo portano i tifosi che incitano e fanno stare sempre sul pezzo questi ragazzi quindi tutto fa colore dagli schemi sul piazzato, dalle magliette e anche dal tifo insomma. Insomma è anche bello raccontare questi piccoli particolari oltre insomma collaterali alle partite dobbiamo salutarci anche per questa puntata non dimenticate di seguire il nostro PCS Extra in coda alla trasmissione quindi rivedremo tutte le immagini, tutti i gol e le interviste realizzate a bordo campo a tutti i protagonisti non mi resta che ringraziare Daniele Silvestri come sempre è puntuale e il nostro Matteo Lupini che è l'ultimo anno che sarà con noi perché poi andrà a condurre programmi prestigiosi in Rai no Matteo? Magari Ma come magari? Dovessi essere contento di stare qui con noi? No no non in quel senso No un momento Prima che mi faccia un ricoraggio Non scudare sul piatto dei mangi È bello un attimo È bello lavorare qui Però Balla, balla Matteo No Balla Matteo Ma secondo voi io posso fare così? Ecco Grandissima Stavo facendo un discorso serio È bello lavorare qui È bello lavorare anche con un gruppo di amici Oltre ad essere colleghi Diciamolo Però io punto in alto Scusate ma È normale sognare Lo dico una volta per tutti E noi ti auguriamo Che a fine dica Ma te con questi balletti La strada sarà spianata Il successo Grazie Fai la filerica Forse Quella sarà la mia strada No 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 dai Matteo In bocca al lupo per tutto Insomma grazie anche a voi Che ci avete seguiti Per questa puntata Ci vediamo lunedì prossimo Sempre con PCS Fuzzle Dalle 21 e 30 Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti